musica 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 Jennifer Mills Jennifer Mills Jennifer Mills di Flashdance chi è questo? cosa ha detto? chi è lei? perché a me sarebbe piaciuto sempre poter danzare ma per esempio se fossi stato in Emilia Romagna dove ci sono centri per anziani ospedali che funzionano strutture, servizi, scuole di ballo tango, merenghe, cia cia cia, mambo allora quando vado a sentire musica potrei ora ballare e non veder ballare e però quelle scarpe sono molto comode così semplici eppure beh, devono stare molto a loro agio i piedi eh? si, sono molto comodi penso che questo ragazzo deve essere un maniatico no, devi essere calmo è un po' off cosa ha detto tipo pazzo? no non era crazy? no, off cosa vuol dire? vuol dire speciale particolare verso pazzo ma non occorra non è certo? off è la cosa non è davvero crazy ma non è davvero troppo ma non è davvero troppo oh, vuol dire tipo off-centre? sì, off-centre ma qualcosa di più preciso credo deve essere qualcosa di più preciso omm 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 Applicate attendo blir non l'imitazione ma non l'imitazione avvicinare ma non l'imitazione Grazie a tutti